La cosa che ci ha stupito di più è essere entrati nel linguaggio comune, cioè essere entrati nel modo di parlare della gente. Allora sentire qualcuno che risponde al telefono e dice ti stupisci perché ti ricordi quando eravamo lì, l'abbiamo provata, l'abbiamo scritta e adesso è entrata nel linguaggio comune, la gente parla così, i bambini che vanno all'asilo, la maestra mi ha fatto vedere il messaggino che le ha mandato alla figlia del compleanno, la vuole di compleanno di lì c'è un'altra società, e questa cosa qui ci fa molto piacere che vuol dire che non è un tormentone vuoto fino a se stesso, tanto per ripetere, per fare tanto in testa come una cantoncina stupida, ma è un tormentone che racconta un mondo e perciò attecchisce secondo me, e questo devo dire che ci fa molto piacere soprattutto quando dicono che in famiglia se lo guardano tutti insieme e molti ci dicono ah io come figlio non faccio mai niente, almeno quando ci siete voi stiamo insieme e ci guardiamo il vostro programma, e questa è una cosa che è più buona. Ancora